Sono partiti il 27 dicembre e tornano il 5 gennaio, diretti in Calabria, a Sant'Ilario dello Ionio di Ocesi di Locri Gerace, in una zona caratterizzata da estrema povertà, dove ai bambini manca davvero tutto, anche l'essenziale, compresa quell'attività vitale per una crescita sana e umana, un diritto che noi diamo per scontato e che invece non lo è, il gioco. Quello che vedete è un video di un momento delle attività ludiche svolte. Dieci ragazzi cremaschi tra i 16 e i 18 anni hanno deciso di passare diversamente queste festività natalizie, mettendosi al servizio dei bambini della parrocchia di Sant'Ilario dello Ionio, in provincia di Reggio Calabria, all'interno dell'iniziativa della Caritas di Crema, Giovani on the Road. Sono lì da qualche giorno, ma come riferisce Fabrizio Motta, referente per la mondialità della Caritas cremasca, stanno già facendo diverse attività, non solo coinvolgendo i bambini, ma anche gli adulti della parrocchia. Stasera ci sarà la tombolata aperta a tutti e domani parteciperanno al concerto di Natale. Giovani on the Road è un'iniziativa aperta ai giovani della Diocesi di Crema, promossa dalla Caritas e dalla pastorale giovanile degli oratori della Diocesi. L'obiettivo dei campi estivi invernali è quello di sportare il modello del Grest, tipico dei nostri oratori, che funziona in zone dove non esiste. Due elemente che propongono generalmente per i campi estivi, Albania e Calabria. Da qualche anno la proposta è stata estesa anche ai campi invernali, solo in Calabria. È il secondo anno che veniamo in Calabria in inverno, riferisce Fabrizio Motta, ma vi assicuro che torniamo sempre felici. Quello che riceviamo è molto più di quello che diamo.